ciao amici sono lox bentornati sui fatti l'opinione di lox il canale per i veri malati di sport completiamo questo meraviglioso weekend con un'altra partita di serie b ovvero il posticipo serare tra la salernitana e il brescia incontro molto interessante che attendevo con molta curiosità per vedere se la salernitana sarebbe riuscita a continuare il suo momento positivo per rispondere alle vittorie di ieri del lecce del venezia dell'empoli e se il brescia avrebbe continuato invece il suo altrettanto ottimo momento della lotta per la griglia playoff prima di venire alla partita consentitemi un momento di pensiero per il nostro canale perché questo weekend abbiamo raggiunto diversi risultati abbiamo superato i 100 video abbiamo superato i 200 iscritti anzi con oggi siamo già arrivati 218 abbiamo superato le 20.000 visualizzazioni e nel pomeriggio ho assistito anche la prima partita dal vivo grazie al canale c'erano abbastanza ragioni quindi anche per festeggiare questo momento grazie a voi e quindi vi vado con il consiglio di vino come avevo già fatto in precedenza quando abbiamo festeggiato il primo mese del canale e sapete che nonostante in italia ci siano diversi vigneti diversi vini siamo una delle migliori nazioni del mondo per i vini ci mancherebbe altro io sono appassionato dei vini dell'emisfero sud mi piacciono molto i vini in particolare della nuova zelanda quindi per festeggiare questi diversi risultati oggi ho utilizzato un vino bianco un st clair sauvignon blanc della nuova zelanda vai rau reserve della regione di marlboro che assolutamente vi consiglio perché è un vino assolutamente eccezionale quindi segnatevelo vai rau blanc st clair grandissimo vino veniamo alla partita salernitana brescia vince la salernitana vince per 1 a 0 un successo assolutamente meritato in una partita particolare la video subito un dato che è un dato dei dati più esemplificativi di che cos'è questa partita e che cos'è in generale anche un concetto del gioco del calcio possesso di palla salernitana 39 brescia 61 tiri in porta salernitana 21 brescia 4 nello specchio 5 a 0 per la salernitana ovvero la salernitana è una squadra di una incredibile compattezza difensiva di un'incredibile consistenza di squadra di voglia di giocare recupero di palloni intensità in avanti assetto difensivo portiere belek grande sicurezza bogdan dietro leader di questa difesa oltretutto ha segnato il gol della vittoria centrocampo di recupero di palloni culibali di tacchio tutta gente assolutamente carica e soprattutto i due giocatori che mi sono piaciuti di più sulla fascia due stantuffi due esterni casasola ierozinski che hanno giocato due partite eccezionali una partita eccezionale entrambi davanti bomber tuttino oggi non ha segnato ma ha fatto tutto tranne che segnare una partita straordinaria di recupero palloni di lotta di grinta per tenere impegnati i difensori avversari in tutto ciò il brescia non mi è dispiaciuto ha giocato comunque una buona partita però è mancato completamente in avanti ai e non è riuscito assolutamente a mettersi in mostra quando nel secondo tempo è cambiato l'assetto con tre cambi insieme al cinquantaquattresimo nonostante l'ingresso di donnarumma l'ingresso di altri giocatori un pessimo ingresso qualche minuto dopo di pajak il brescia non è proprio mai riuscito a creare un'occasione da rete la difesa della salernitana ha impedito completamente al brescia di creare occasioni pertanto ragazzi segniamoci una data sul calendario io non vedo già l'ora di questa partita 2 di aprile venerdì di pasqua ore 19 lecce salernitana ovvero l'apoteosi la più bella una delle più belle partite che possiamo seguire in questo momento la seconda contro la terza in classifica la classifica in questo momento recita empoli 59 lecce 52 51 la salernitana 50 al monza 49 il venezia ovvero siamo in un rush finale straordinario la sfida di lecce sarà stupenda anche perché si affrontano una squadra come lecce che ha segnato fino ad ora 58 gol e una squadra come la salernitana che ha segnato i 32 ovvero segnando 26 gol di meno la salernitana è comunque a un solo punto di distanza dalla lecce non vedo l'ora di vedere il bomber coda 20 gol 4 doppiette consecutive scontrarsi contro la difesa della salernitana e contro il portiere bene sarà veramente una grandissima partita per cui segniamoci già questo 2 aprile sul calendario assolutamente importante per la partita di oggi poco da dire da un certo punto di vista la partita mi è piaciuta è stata vibrante è stata combattuta viva fino alla fine io do anche setta questa partita perché mi è piaciuta mi è piaciuta proprio per la grinta che le due squadre hanno messo in campo non ci sono stati mai momenti morti o momenti di noia nell'incontro il momento decisivo il gol della della vittoria del della della formazione di salerno è stato realizzato al 24esimo calcio d'angolo perfettamente battuto ogni calcio d'angolo della salernitana ha messo in difficoltà la difesa del brescia nonostante cistana cansello degli ottimi giocatori in questo caso il cross ha trovato bogdan completamente libero bisoli ritardo nella copertura colpo di testa palla in rete va detto anche se conta poco perché comunque sul calcio d'angolo se può fare qualsiasi cosa si può ribattere la palla si può fare tutto il calcio d'angolo comunque non c'era però questo è un dettaglio perché comunque poi il brescia ha avuto l'opportunità in ogni caso di respingere la palla sul calcio d'angolo battuto detto questo poi il brescia zero occasioni da gol costruite salernitana diverse occasioni da gol nel secondo tempo niente di totalmente chiaro di totalmente evidente una totale senza una costante sensazione di pericolosità l'unico torto che trovo alla partita della salernitana è stata quella del non aver realizzato il gol del 2 0 per mettersi al sicuro ha tenuto comunque il brescia in vita fino alla fine in una partita comunque controllata con i dati che abbiamo visto prima probabilmente la salernitana avrebbe dovuto stringere e chiudere la partita prima unica pecca della salernitana la sostituzione quindi non aver segnato trovo un errore quando castori ha sostituito anderson perché davanti stava creando veramente tante difficoltà alla difesa del brescia non l'avrei sostituito questo ha un pochino allentato per diversi minuti la pericolosità offensiva della salernitana i migliori campo della salernitana abbiamo già detti ovvero belle casasola iaroseschi e tuttino invece per quanto riguarda il brescia diciamo il giocatore che mi è piaciuto di più è stato bjarnason ovvero anche l'unico che è resistito alle purazioni del centrocampo del 55esimo ovvero l'unico centrocampista rimasto in campo giocatori che ha creato più difficoltà e mi è piaciuto abbastanza ci starà dietro comunque un leader un bellissimo giocatore da tenere anche lui è assolutamente sotto controllo arbitro di incontro santoro di messina per lui il voto è 5 arbitro che non mi piace nell'atteggiamento in campo una certa arroganza e il petto il dito un modo di approcciarsi ai giocatori che non mi piace più di tanto sul calcio d'angolo come abbiamo detto prima c'è un errore il calcio d'angolo non c'era santorara oltretutto piuttosto vicino all'azione e non ha visto l'ultimo tocco di anderson tra l'altro lo mettiamo come copertina di questo video giusto così come curiosità e però la grossa mancanza a mio avviso della partita di santoro è stata che ha chiuso con 27 falli e 4 gialli non è stato neanche tanto dei falli perché mi è abbastanza piaciuto il fatto che abbia racconto correre quanto diversi errori nelle ammunizioni io mi sono segnato diversi un carrigno di culibali dove non ha fischiato neanche fallo e non ho dato il cartellino giallo un giallo a gondo per quale ragione manca un giallo a jomber manca un giallo a iagelco ma il giallo andoi come mai insomma diversi errori contro tutte due le squadre ci mancherebbe non mi è piaciuto come ha gestito la partita per cui a mio avviso il voto per santoro e 5 in questo caso telecronaca molto bella mi è molto piaciuta santoro scusate santoro l'arbitro la telecronaca era di eduardo testoni e di schvock sette e mezzo da testoni otto a schvock nella sua semplicità anche dialettica molto bravo molto carico molto anche attento ricordi del passato delle una buonissima analisi della partita e testoni anche molto bravo mi è piaciuto ha fatto una bellissima telecronaca con grande ritmo per cui trovo che comunque le partite di serie b su da son sono seguite molto bene sempre con una dovizia di particolare dei telecronisti che sono molto bravi poi quali da rai già sapete che mi piacciono addirittura anche di più soprattutto agostinelli quindi ragazzi vi ringrazio splendido weekend per il nostro canale per le partite che ho seguito la grande sorpresa oggi di essere andato anche a vedervi questa partita dal vivo dell'armani questa serie b sempre più bella avviciniamoci a questa fase post pausa ora purtroppo il campionato è fermo fino al 2 ma copriremo naturalmente con l'under 21 che gioca la prima fase dell'europeo in slovenia un torneo molto interessante che seguiremo seguiremo anche perché è pieno di giocatori di serie b quindi la nazionale italiana per cui vedremo a maggior ragione questa partita della nazionale quindi ci vediamo nei prossimi giorni parleremo di calcio parleremo di under 21 parleremo di pallacanestro con l'eurolega più qualsiasi cosa che come sempre ci dovesse venire in mente o ci dovesse interessare grazie a tutti ancora di tutto ragazzi e ci sentiamo prossimamente grazie buonanotte ciao